Allora, visto che non abbiamo cominciato con l'ascolto dell'opera, faccio un piccolo inserto che avrei comunque fatto alla prossima voia. Vi voglio però soltanto focalizzare alcune cose. Mi puoi fare una sequenza violenta. Questo è l'inizio del finale del terzo atto della traviata di Verdi. La protagonista si chiama Violetta, è anche Violetta il nome di un fiore, come vedremo. E questo sentimento di stranezza inizia ad avercelo molto chiaro ed è un sentimento metaforico. Volevo soltanto focalizzarvi alcune cose perché poi torneranno in Marta, ma le ascolteremo perché voglio cominciare dall'inizio, voglio farvi sentire. Che cosa succede? Allora, innanzitutto lei incontra Alfredo, Alfredo va via e comincia ad interrogarsi su questo mistero dell'amore su questo mistero dell'amore. Resta sola la non mi vuole togliere il gusto, anche perché vi devo preparare al fatto che non mi capterò tutto il finale del primo anno di trovare dopo che sto parlando da due ore. Però volevo sottolinearvi come viene cantata la musica. Saria per me sventura un serio amore? Cioè l'amore che porta la sventura. E poi è strano, è strano. C'è questo sentimento veramente di ignoro e questi accordi che sono, li possiamo riferire a Natana, queste quartine, le battute, che sono veramente di farlo. E' strano. Il sogno, 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 l'uomo ancora accendeva. L'uomo ancora accendeva e ritornerà la febbre tra un po', il male, il morbo sottile, la malattia, eccetera. E prima menzione della gioia. Guardate com'è fatto, perché questa, a differenza di quello che sarà Magda, è una lezione di canto. Tutti gli accorgimenti che lui usa, il modo in cui porta la voce, il modo in cui inizia a sviluppare la vocalità, è un modo anche per far riscaldare la cantante, perché questo tutto sommato è l'inizio dell'opera. la Violetta finora ha avuto pochissimi scambi di battute, un brindisi, che è poca roba rispetto a quella che dovrà fare. E comincia. Con gioia e gioia, io non conobbi, prima scala. con gioia e gioia e gioia e gioia e gioia e gara. Ve lo ricordate il lao? Follie Qui compara per la prima volta Su questo tema Lei comincia Questo ternario Lo sentiamo? 1 2 3 1 2 3 1 2 E tu cominciai il cuore 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 18 18 18 19 18 19 19 20 22 21 22 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 26 Nei suoi colori occulti Lui che modesto e vicine Algriscogli ascisi E io a febri accisi E spattomigli all'amore Un'espressione largissima Andiamo avanti E spattomigli all'amore Un'espressione largissima Queste due parole E la seconda rita Un'espressione Un'espressione largissima 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 Avvenire Desire, avvenire Tumulti, occulti Desire, avvenire Torna sempre questo la Tirato fuori così Si, per l'avvenire Chi è il signore Per l'avvenire? Lui quando mi c'è il raggio Di sua vita fede E di passiva Di quel divino error Di quel divino error Anche qui c'è un Un misbuglio strano di parole Quindi è questo signor dell'avvenire che lei illumina Quando leggeremo l'aria di Marta È uguale Dice le stesse cose Ed è ambientata nello stesso periodo di Violetta Perché Violetta L'ha cambiata È del 1853 La rondine è ambientata nel secondo impero Quindi nello stesso periodo Però poi è venuta fuori Dopo Perciò Certo Allora Tre bighe basta eh Chi è il fatto che Vai Sinti a che rovi, che amore, Padre mio, Vendo innesso dell'universo inferno, Vistirioso, misterioso al cielo, Cruci, cruci, felicia, cruci, felicia, Delizia, cruci, felicia, delizia, cruci, felicia. Qui possiamo iniziare a vedere un volo di rondine. Non sono scesa nel dettaglio della tecnica vocale, ma sarebbe molto interessante. Comunque, siccome lei tra un po' operirà nei vortici di volutà che richiamano molto appunto il volo degli uccelli eccetera Marpeggi Carassi Progete del Vizio Alcante Fungi e Fungi Fungi Oh, mia donna, sola, affallonata, in questo voloso deserto che è la nuova Parigi Allora, ricordate il deserto? Sì Parigi, quindi come morte, come mare, come deserto E questa povera donna, in realtà non è lei povera me E la povera donna, quella con la D maiuscola, quella che è il mare, il femminile, eccetera Il fatto che stiamo parlando di un tema e non di una persona Si evince nel fatto, a parte le follie, le strano, il morbo, il micro sottile, eccetera Ma si evince nel fatto, Puccini ci ha fatto tre opere da questo finale di atto di Traviata Perché in Manon Descò, la morte di Manon è Sola, perduta e abbandonata, io la deserta donna Cioè, una stessa cosa E poi Parigi, però, appunto, dobbiamo iniziare a sentire Rondine Per capire meglio di che cosa si tratta e la riprenderemo Violetta Perché è veramente una chiave, anche tecnico-vocale, per capire poi il personaggio di Manon Ha detto questo Grazie Grazie